Il nuovo prefetto di Barletta Andrea Trani, Rossana Riflesso, si presenta agli organi di stampa. Dopo essersi insediata nel Palazzo di Governo a Barletta nei giorni scorsi, la dottoressa Riflesso ha prima incontrato dirigenti e personali di prefettura per una disamina in merito alle attività da svolgere, a seguire incontri con autorità civili, militari e religiose. Il nuovo prefetto, che segue l'operato del dottor Maurizio Valiante, esprime ai microfoni della stampa l'intenzione di proseguire nel solco della continuità. Ho percepito questa sinergia, ripeto, fra tutte le istituzioni e la prefettura, frutto ovviamente dell'ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto. Spero che questa sia una costante anche per gli anni per cui mi toccherà essere qui, felicemente essere qui e quindi speriamo di fare il meglio possibile. La dottoressa Riflesso è entrata nei ruoli della carriera prefettizia nel Ministero dell'Interno nel 1990 con la qualifica di consigliere di prefettura, ha prestato servizio quale vice prefetto presso le prefetture di Belluno, Foggia, Palermo, Bari, Barletta Andreatrani ed ancora Bari. È diventata vice prefetto con funzioni vicarie nel 2017 proprio nell'ufficio territoriale del governo di Barletta Andreatrani, prima di assumere dall'ottobre dello stesso anno analogo incarico nella prefettura di Bari. Numerosi i servizi speciali conferiti dal Ministero dell'Interno alla dottoressa Riflesso nel corso della carriera, tra i quali si segnalano quelli da commissario straordinario nei comuni di Turi, Bitetto, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Palo del Colle Corato e di sub commissario della provincia di Bari e dei comuni di Vieste, Conversano, Noce, Altamura, Barletta, Trani, Gravina in Puglia, Molfetta ed Adelfia. Un territorio, quindi quello della BAT, già noto al prefetto Riflesso. Conosco chi lavora in questa prefettura, conosco anche molte istituzioni, molte autorità, molti sindaci in effetti, già li conosco e quindi questo mi renderà anche più facile. Domani abbiamo gli incontri con i sindaci, sono tutti invitati contemporaneamente e poi naturalmente avrò anche delle interlocuzioni individuali per le varie problematiche che riguardano i territori singoli.